Ciao, sono Matteo Cornacchione, meccanico del team UAE Fly Emirates. Il mio lavoro comprende tante ore di lavoro dalla mattina, quindi partiamo la mattina dopo colazione, quindi tirare giù le bici dal canyon, gonfiarle, sistemarle sulle macchine, andare alla corsa, sperare di vincere la corsa, che è l'obiettivo sempre importante, tornare in hotel, risistemare tutte le bici, controllarle tutte, quindi la giornata è sempre lunga, la giornata varia dalle 12 alle 14 ore, più i vari trasferimenti, quindi questo è un lato abbastanza duro del nostro lavoro, però quando il lavoro si fa, si fa molto vendieri perché è una passione. Il punto per essere un buon meccanico o discreto è essere molto precisi, molto sempre concentrati sulla bici, ricordarsi sempre tutto quello che c'è da fare, quindi non distrarsi mai e poi quando vai alla gara se hai fatto un buon lavoro al 99% la bici va bene, quindi è tanta concentrazione e a volte anche fortuna. Viaggiare con questo lavoro è a volte anche bello perché tante volte usciamo dall'Europa, nonostante l'Europa sia un bel continente e quindi tante volte si va in America, in California, in Colorado, è successo tante volte e si vedono posti nuovi che magari una persona normale ci va in vacanza. Noi abbiamo la fortuna, fra parentesi, di andarci per lavoro, quindi di govere di questi ottimi spettacoli naturali. alla prossima... ... ... Grazie a tutti